La tempesta di vento del 5 marzo scorso non ha solo sradicato alberi e rovinato colture, ma si è portata via anche un pezzo della memoria nazionale. Divelta dal suo basamento la lapide dell'ossario di Sant'Anna di Stazzema, che riportava incisi i nomi e le età di molte delle 560 vittime del tragico 12 agosto 1944, quando la ritirata nazifascista trovò tra queste montagne il suo capitolo più sanguinario. Un luogo simbolo al cospetto del quale numerosi capi di Stato e semplici cittadini hanno reso omaggio. Ad accorgersi dello scempio è stato domenica mattina un altro dei simboli di quel tragico giorno, Enrico Pieri, unico sopravvissuto ancora in vita della strage e presidente dell'Associazione Familiari e Vittime di Sant'Anna. Pieri, che all'epoca dell'Eccidio aveva dieci anni, racconta così le emozioni di trovarsi di fronte a ciò che il vento aveva lasciato dietro di sé. Mi ha preso la disperazione perché ho pensato, dico, questa volta non ce la facciamo più a rialzarsi da questa catastrofe, perché veramente è stata una catastrofe. Sono rimasto male, già avendo un'età avanzata così, dico, e poi insomma quello che rappresentava, perché qui quando vengono tutte le scolaresche davanti a questa lapide, insomma, vedono veramente come toccare quasi le persone, perché dire tante persone, dire così a voce, ma quando le vedi l'elenco uno dietro l'altro e l'attacchi, poi vedi l'età e vedi scorrendo veramente, era una testimonianza per tutti questa lapide. Ma non è stata soltanto la lapide dell'ossario ad essere danneggiata. Tutto l'intero Parco della Pace ha subito gravi danni, prima tra tutte la chiesetta, il cui tetto è stato scoperchiato. Poi il percorso della via Crucis che dalla piazzetta porta all'ossario è attualmente impraticabile per il pericolo di crollo di altre piante. Chiuso anche il Museo della Memoria. Di fronte a tanta distruzione, il Comune ha istituito immediatamente un codice IBAN dove poter effettuare donazioni con la causale Salviamo il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Noi dopo aver preso visione di questo ci siamo sentiti in doveri lanciare un appello, una sottoscrizione per tutti coloro che vorranno partecipare per salvare il Parco Nazionale della Pace. Abbiamo bisogno proprio delle istituzioni a tutti i livelli per ricostruire e far rinascere il Parco Nazionale della Pace.